Sì! Eccolo! Il nuovo samurai! Sì! Il nuovo samurai è un kame! Che cos'è? Il nuovo samurai è un kame! Il nuovo samurai è un pane! Benvenuti a Kakamucho! Va bene, o la va o la spacca! Un comitato d'accoglienza forse sarà meglio del previsto! Allora, primo giorno di lavoro! Guardare negli occhi, sorridere! Sì! Quello è un cane! Finirà per rovinare il gran giorno! Uccidiamolo prima che arrivi il nuovo samurai! Rifendiamo! Abbandi! Facciamolo a pezzi! A cuccia! Cane in padella! Ecco che cosa si mangia stasera! Sì! Perché ha colpito il cane con la padella! Eh... Sarà morto? Ehi, ehi! Guarda se ha dei croccantini nelle tasche! Oh, è un impostore! Fingeva di essere morto! Cattivoni! Infiltruamolo! Ripartiamone un attimo! Silenzio, kame! Sono il nuovo samurai! Guardate! Ho anche la tazza! Finiamolo! Fermi! È veramente il nuovo samurai! Qui dice che l'ha nominato lo shaguni in persona! Ma questo è... Wow! Ah, io non me l'aspettavo! Dammi questo! Ti devi essere confusa, amicettina! Ah! Questa sì che è una delusione tremenda! Che cosa? Non so leggere! Ha ragione lei! È ufficiale! E quindi non possiamo ucciderlo? Sì, no! Sì, lo so, lo so! Siamo tutti delusi! Però possiamo odiarlo, vero? Assolutamente! Sì!